Da qui al 92 la SIP investirà 27 mila miliardi. Con questo impegno che la colloca al primo posto fra le aziende italiane per volume di investimenti e che è stato ribadito a Firenze dal presidente Giannotte e dall'amministratore delegato Benzoni, la società per le telecomunicazioni del gruppo IrisTet si pone alcuni obiettivi precisi. Aumento degli abbonati dagli attuali 19 milioni a quasi 23 milioni e mezzo, il che vorrebbe dire un allaccio telefonico nel 90% delle famiglie italiane. Sviluppo delle centrali elettroniche, della telematica e dei nuovi servizi come la trasmissione dati o il facsimile. Forte crescita nel mezzogiorno dove sarà concentrato il 35% delle risorse. 5 mila miliardi saranno destinati a migliorare la qualità del servizio, oggi ritenuta inadeguata soprattutto nelle grandi città. Fra l'altro dovrebbero ridursi drasticamente i tempi d'attesa per i nuovi allacci, dai circa 4 mesi di oggi a meno di 30 giorni. A giudizio della SIP i 27 mila miliardi di investimenti già preventivati non sono comunque sufficienti perché nel 92, anno del mercato unico europeo, il nostro sistema di telecomunicazioni sia allineato a quelli degli altri principali paesi della comunità. Occorrono altri 10 mila miliardi, 5 mila di finanziamento pubblico, 5 mila a carico dell'azienda. Vogliamo poter continuare a finanziare questo programma di 5 mila miliardi con i tradizionali canali di finanziamento che sono aumenti di capitale attraverso l'azionariato privato e attraverso l'azionariato pubblico, il ricorso a capitale di prestito, il ricorso all'autofinanziamento in parte attraverso ulteriori miglioramenti di produttività e in parte data i costi maggiori di un programma SIF fatto attraverso adeguamenti di tariffe comunque inferiori al tasso di inflazione. Bene, un'ultima notizia di sport, automobilismo, una lancia Delta HF in testa al rally di Svezia, seconda prova del campionato del mondo. Dopo nove prove speciali la macchina guidata dal finlandese Marco Allen precede di un minuto e 31 secondi la Ford di Blomqvist e un minuto e 49 la Mazda di Micola. Il rally si concluderà dopo domani sera. Ricordiamo ora i titoli di copertina di questa edizione del Tg1, finanziaria verso il voto finale a scrutinio segreto, incontri e colloqui a tutti i livelli confermano la volontà della maggioranza di approvare la legge per poi andare ad un serio chiarimento politico. Così Gregoriano ha celebrato i 40 anni della Carta Costituzionale con un omaggio ai padri della Costituzione della Repubblica. Roma è un crocevia della diplomazia internazionale, il presidente egiziano Mubarak espone il suo piano di pace per il Medio Oriente. Il segretario alla difesa americano Carlucci parla del dopo euromissili. Flessione anche oggi della Borsa, il presidente della Consob, Piga, ascoltato al Senato dalla Commissione Finanze. In Belgio De Benedetti apre un'azione legale contro le vendite di azioni della Societe Generale. Inquietanti interrogativi dopo l'episodio della ragazza milanese aggredita in una stazione del metro. Bene, buon proseguimento di serata con i programmi di Rai 1. Vi ringrazio di averci seguito sin qui. Buonasera. Grazie. 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 Grazie.